Allora signore, adesso che sapete un po' quali sono le diverse fasi per la realizzazione di un pozzo, andiamo a vedere un po' insieme tutto quello che è stato fatto nelle scorse giornate, sia con dei video o sia con qualche immagine. Allora, intanto vediamo la situazione attuale, che è questo tubo in PVC che è piantato nel terreno. Allora, questo tubo è proprio il tubo che costituisce la parete del pozzo. Se noi adesso svitiamo questo tappo, vedete che abbiamo il pozzo. Come siamo arrivati a questo punto? Per prima cosa abbiamo effettuato la perforazione esplorativa. Quindi cosa abbiamo fatto? Una volta stabilito dove arrivare col pozzo definitivo e quindi quale falda andare a captare, siamo partiti con le operazioni d'alesaggio. Quindi, questa è la punta per fare l'alesaggio vista da vicino. Vedete che semplicemente ha la testata, che è quella, come avete già visto, più o meno della stessa ampiezza delle punte per il foro esplorativo. E poi c'è un'altra testata per l'alesaggio. Va, insomma, adesso viene mandata nel terreno e poi viene mandata in profondità, fino alla profondità voluta, che nel nostro caso era poco sopra gli 85 metri. Poi, semplicemente, una volta forato per tutta la lunghezza voluta, quindi fino a questi fatidici 85-86 metri, con quella punta lì di diametro più grande, si procede all'inserimento dei tubi. Qui vedete i tubi e vedete la differenza tra i tubi ciechi, che sono dei semplici tubi in plastica, chiusi, ai tubi microforati. Vedete che hanno tutte queste cavità che permettono all'acqua, dalla falda esterna ricca di ghiaia, di infiltrarsi dentro e quindi trovare poi all'interno del pozzo solo acqua limpida. Tra l'altro, quella dimensione qui, quindi dell'ampiezza di questi intagli, può essere decisa a seconda delle esigenze. Queste, per esempio, hanno degli intagli che sono larghi un millimetro. Ce ne sono di tante misure, da 0-2 mm, quindi dai due decimi fino a circa due millimetri. Allora, per inserire tutti questi tubi, ovviamente sotto ci vuole una punta che gli aiuti a penetrare nel terreno, perché magari il foro appena fatto si può restringere nel sottosuolo e quindi si monta all'estremità di tutta questa serie di tubi una punta in acciaio, che vi faccio vedere. Vedete questa punta qua? Si monta e poi vengono calati tutti i tubi nel sottosuolo. Una volta calati e tenuti in posizione, si entra dentro al gruppo di tubi appena posato, con delle altre aste. Ci si va ad avvitare all'estremità, alla punta finale del pozzo, quindi a questa punta che abbiamo inserito in acciaio. Lì ci si va ad avvitare e si inizia a pompare acqua. C'è una valvola che permette all'acqua di uscire. Quindi l'acqua cosa fa? Viene spinta sotto e poi, praticamente come il principio di una perforatrice, risale e permette al gruppo di tubi di scendere un po' più in profondità qualora si dovessero essere bloccati. Una volta arrivati in posizione perfetta, si riempie con del ghiaietto l'intercapedine che c'è tra i tubi e il foro creato. Infatti il foro creato viene fatto un po' più grande dei tubi che vengono calati e quest'intercapedine che rimane viene riempita con del ghiaietto che ha una dimensione dei grani calibrata e quindi non penetra dentro al pozzo ma funge un po' da filtro. Quindi l'acqua che scorre e si avvicina al pozzo viene filtrata da questo ghiaietto prima di incanalarsi dentro alla camicia del pozzo fatta appunto di questi tubi microforati in PVC. Come potete immaginarvi, affinché il ghiaietto si posizioni in maniera corretta, il tubo deve rimanere perfettamente centrato rispetto al foro più largo eseguito. Per tenerlo centrato rispetto al foro esterno vengono messi dei centratori. Vedrete adesso qualche immagine, vedete questi centratori, permettono semplicemente di tenere il tubo centrato rispetto al foro realizzato. Una volta posato il tubo, quindi con i suoi centratori, messo il ghiaietto in corrispondenza delle parti filtrate, non resta che effettuare lo spurgo del pozzo. Allora, come funziona? Noi, utilizzando un pistone del genere, vedete che qui ha le sue guarnizioni, andiamo sempre con l'aiuto delle aste con questa macchina in profondità, dentro ai tubi in plastica, appena posati, andiamo, non so, a una ventina di metri, quindi prima della fine del pozzo, e iniziamo a pompare acqua. Ho detto una ventina di metri, ma in realtà si inizia a pompare in corrispondenza della parte con i fili, diciamo con i forellini, quindi la parte della falda. Si inizia a pompare e questo fa sì che l'acqua esca dai forellini, in pressione, e vada a sciogliere la pellicola bentonitica che si è creata sulle pareti del pozzo quando si è perforato. Come avevo accennato nel primo video, quando si effettua la perforazione viene mischiata bentonite. Cosa succede? Che ovviamente si crea questa pellicola, che poi, diciamo, ostacolerebbe il flusso dell'acqua dentro al pozzo. Per scioglierla, perché, ripeto, si scioglie con l'acqua, si effettua appunto questo spurgo. Quindi si inizia a pompare acqua in pressione dall'interno del pozzo verso l'esterno e si va a diluire appunto questa pellicola e dopo l'acqua è libera di raffluire dentro al pozzo. Un'altra tecnica che si può utilizzare per spurgare il pozzo si chiama airlift. Praticamente noi andiamo con un compressore, adesso vedrete qualche ripresa, a pompare tantissima aria in pressione in profondità nel pozzo. Quindi arriveremo quasi alla sommità inferiore del pozzo, pomperemo acqua in pressione. La pressione fa risalire con violenza l'acqua che zampillerà fuori dal pozzo e, diciamo, crea una depressione quest'acqua che esce improvvisamente del pozzo. Creando questa depressione, permette all'acqua della falda di affluire velocemente dentro al pozzo. Effettuandolo diverse volte si dovrebbe iniziare a vedere acqua limpida, perché man mano si va a sciogliere appunto la bentonite nelle pareti, ma anche altre impurità delle pareti del pozzo, si vanno a sciogliere e quindi l'acqua pian piano diventa limpida. Un'altra tecnica per spurgarlo può essere semplicemente quella di mettere una pompa che non sia molto sensibile alle sabbie, quindi al particolato che c'è nell'acqua, metterla giù nel pozzo e farla circolare. Lei aspira acqua e man mano, ovviamente, l'acqua diventerà sempre più limpida, sempre più limpida, fino a quando non sarà effettivamente della qualità finale voluta. Noi dovremo chiudere la sommità della parte filtrata con un'altra sostanza. Non ho le competenze per dirvi a livello chimico come reagisce questa sostanza, però crea semplicemente un tappo, quindi praticamente alla fine di tutto questo ghiaietto viene messa questa sostanza che un po' si gonfia e quindi va a tenere in posizione il ghiaietto ed evita che magari gli strati superiori vadano a infiltrarsi nel ghiaietto e a infiltrarsi poi dentro al pozzo, rientrando per tutte le cavità, tutti i forellini nella camicia del pozzo.